ciao a tutti io sono acce sono un potamo e vi voglio presentare il mio canale il mio canale è un canale interattivo bellissimo parla di tante cose io sono in questa famiglia da tanti anni mi hanno accolto con tanto amore simpatia gentilezza la mia casa è piena di amore perché siamo pieni di animali abbiamo cani gatti tutto diamo da mangiare gli uccellini fuori nel bocco quindi noi siamo una famiglia molto amante degli animali il mio canale si chiama acce cuccioli cani e e puntini puntini perché e vuol dire un po di tutto perché in questo canale si parlerà di tante cose di cani di cuccioli divertimenti darò dei consigli informazioni parleremo di musica di cucina un po di tutto perché io sono tutologo ok tutologo quindi voi dovete scrivere mio canale che si chiama a c h cuccioli cani e puntini puntini e vedrete che vi divertirete tutti quanti e sarà bellissimo seguirmi dovete iscrivervi al canale mio scriveretevi al mio canale schiacciate col pollicione mi piace e vedrete tante cose belle perché io faccio tante cose belle e divertenti che nessuna mondo fa quello che faccio io quindi amici miei nuovi fate tutto quello che potete fare per fare vedere le belle cose della vita perché la vita ha tante belle cose quindi ciao amici miei scrivetevi al mio canale acce cuccioli cani e puntini puntini e non ne pentirete mai tanti baci ciao 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 ciao